Ora che il fantomatico campo largo ha ottenuto il suo primo successo significativo nelle elezioni regionali in Sardegna, cosa succederà nel centro-sinistra? La coalizione che non che riuscirà a reggere alle tentazioni dei due leader, Ellis Klein e Giuseppe Conte, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, ospiti di David Parenzo in studio all'area che tira, sulla 7, ha un legittimo sospetto. Questo Conte che si dice pronto ad andare in Abruzzo, Meloni stessa che dice che parteciperà ai comizi. Il centro-destra si gioca molto se non tutto, nota Parenzo riguardo al prossimo voto amministrativo, le regionali in Abruzzo del 10 marzo. Beh, tutto no, perché il governo terrebbe in ogni caso, replica Senaldi, però senz'altro le elezioni dell'Abruzzo saranno più indicative. Le elezioni sarde erano più particolari, c'erano tantissime variabili, il candidato cambiato all'ultimo momento, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al posto del governatore uscente Cristian Solinas, NDR, i sardisti. Invece in Abruzzo sarà più uno specchio di quello che potrebbe essere il quadro nazionale. E non che è il voto disgiunto, in Abruzzo, aggiunge Parenzo trovando la sottolineatura di Senaldi, anche questo è molto indicativo, perché il voto disgiunto ha giocato un ruolo importante in Sardegna. Pochi minuti prima proprio Conte, raggiunto dall'inviata di La7, era parso piuttosto baldanzoso, sfidando anche Carlo Calenda, il mio numero di telefono ce l'ha, deve decidere cosa fare da grande. A proposito di coesione nel centro-sinistra. Conte mi è sembrato il leader del campo largo, Tagliacorto Senaldi. Vero che il PD ha preso più voti e ne ha di più anche nei sondaggi, ma i segretari del PD sono deboli per definizione. Invece Conte, con il favore di Beppe Grillo che gli ha spazzato via la classe dirigente precedente, quelli che potevano oscurarlo. Punto replica piccata di Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle e anche lei in studio, io credo che Conte abbia molto sicurezza e non si debba sentire minacciato da nessuno. Conte è il più forte, al momento, ribadisce Senaldi con la giornalista Annalisa Chirico che conviene, e un dato di fatto, Conte viene anche dalla sua esperienza da presidente del Consiglio. Insomma, per la Sklen nonostante la vittoria sarda non pare esserci molto da festeggiare. Grazie. Grazie.